Allora, buona la prima direi, anche se era un confronto contro una squadra di seconda categoria, ma non è mai semplice, no? Debutare con i nuovi compagni, ti chiedo com'è andata. No, è andata bene, soprattutto è importante partire bene, si vedono da questi piccoli test di inizio stagione. Meglio partiamo, meglio è per noi, bisogna arrivare al 6 settembre o la settimana dopo, in base a quando inizierà il campionato belli carichi, con positività sulle spalle e cercare di macinare punti più possibile. Allora, ci parli un po' anche del tuo ruolo, innanzitutto sugli siti specializzati sei definito come un ambidestro, già questo è un attestato di stima, ma insomma la posizione in campo in cui ti trovi meglio qual è? Ma diciamo che nasco da seconda punta, però seconda punta l'ho fatto poco, mi sono specializzato soprattutto su un 3-5-2, magari fare il quinto, sia a destra che a sinistra, su un 4-4-2 posso fare l'esterno sia da una parte che dall'altra, poi diciamo che mi adeguo perché in base alla necessità anche un 4-3-3 l'anno scorso ho fatto un'esperienza in Olanda e ho fatto tutto l'anno il terzo attaccante a destra in un 4-3-3, quindi diciamo che mi adeguo in base alla necessità del mister. Cosa ti ha lasciato l'esperienza in Olanda che hai citato adesso? Grande, un bagaglio tecnico importante, tanta tecnica, tanti esercizi basati sulla tecnica, su palla a terra, sono migliorato proprio tanto, tanto tecnicamente perché si tende a trascurare un po' la fase tecnica in Olanda, però su certi aspetti si è meglio là, è meglio qua, però io credo che adesso sia giusto che io ritorni in Italia e faccia l'esperienza giusta che questa qua è una C importante, molto fisica, dove io riesco a farmi l'osso ancora un anno per poi magari riuscire a fare lo step importante. Perché Arezzo e come è nata questa possibilità di arrivare qui? È nata da un interessamento importante dell'Arezzo, io ho sposato a più non posso il progetto perché mi sono informato ovviamente come comunque giocatore prima di andare nella squadra fa e ho saputo che comunque la squadra era buona, il mister è uno tosto come quelli che piacciono a me perché ho sempre avuto mister di questo genere, perché io sono abbastanza uno tra virgolette testa calda che mi piace molto fare quello che mi piace a me senza stare tanto a badare agli schemi e non schemi però mister così mi piace molto, duro, importante, sa quello che vuole come sappiamo noi e credo che con questo spirito qua che sembra cattivo da fuori ma invece c'è una carica devastante dentro e andremo lontano.